Oggi siamo tornati su Teardown perché un ragno gigante, e non solo, ha attaccato un aereo e noi dovremo fermarlo. Dovremo trovare il punto di spawn di questi ragni e distruggere tutto. Ragazzi, questo video è veramente fuori di testa. Non voglio spoilerarvi nulla perché è successo davvero di tutto, fidatevi di me, guardate questo video fino alla fine. E come sempre, se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Io volevo iniziare un video tranquillo senza bug. Mi si è rotto il cane e ha sfasciato un sedile dell'aereo. Imbecille! Ma ti pare il modo di comportarsi? Ma buongiorno, noi siamo la ditta di disinfestazione, hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. E per noi intendo io e il mio cane buggato. Ossia Camillo. Imbecille! Vieni, mamma mia! Oh, ti dai una mossa? Ma guarda te se questo maledetto deve essere sempre buggato. Vieni, con calma. La signora ci ha chiamati. Vediamo di cosa ha bisogno. Camillo! E stai fermo qua! Signora, lei ci ha chiamati? Di che cosa ha bisogno? Ci dica! In che senso il nome della nostra ditta fa schifo? Ci ha chiamati per insultarci? O per risolvere un problema? C'è un ragno gigante che si aggira in questo aereo? Ma che schifo! Ah no! Dimenticavo, siamo una ditta di disinfestazione. Va bene signora! Ci pensiamo noi! E questo è per aver detto che il nostro nome fa schifo! Infame! Allora Camillo, la missione è semplice. C'è un ragno gigante che si aggira in questo aereo. Tu devi fiutarlo e dirmi dov'è. Va bene? Vai! Vai a trovare il ragno! Mi raccomando! No! Sì signora, lo so che questo si chiama karma. E va bene, non fa niente. Adesso troverò il ragno e lo ucciderò. Prima però ammazzo lei. Perfetto! Adesso va meglio. Camillo, troviamo il ragno. Veloce, vieni con me! Mi scusi, lei per caso ha visto un ragno gigante a girarsi per l'aereo? Ma come no! Ma lei è inutile! Adesso chiederò a lei. Mi raccomando, mi dia la risposta corretta. Ha visto un ragno a girarsi per l'aereo? Ah! Da quella parte dice! Grazie mille! Eh... Eh... Vabbè! Eh... L'ho ammazzato lo stesso. Mi scusi, non volevo. Forse. Camillo, resta un attimo di guardia che devo andare in bagno che mi scappa. Eh... Mi scusi? Eh... Potrebbe... Potrebbe uscire dal bagno? Perfetto! Camillo, arrivo! Mi raccomando, fa il bravo! Oh! Finalmente posso andare un attimo in bagno? Oh mio Dio, devo levare i pezzi del corpo del tizio? Che schifo! Oh! Perfetto! Adesso va meglio! 12 secondi dopo... Camillo, io ho fatto tutto bene! Sento uno strano rumore! Perché non si apre più la porta? Mamma mia, ma che bordello! Ma mi assento due secondi! Aaaaaah! Che schifo! Camillo, levati! C'è il ragno! Allora, allora, con calma! Proviamo con qualche arma... Cos'è sta roba? No! No, mi serve il mio distruttore! Non funziona! Oh no, 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 no! Che schifo! Aaaaaah! Sputa fuoco! Camillo, ti devi levare! Ok, perfetto! No, ragazzi, ragazzi, sputa fuoco! Ha distrutto mezzo aereo sto schifo di ragno! Allora, con calma! Come facciamo a distruggerlo? Camillo, se non ti levi ti faccio saltare in aria! Signor ragno, vuole delle persone da mangiare? Eccole! Gliele sto sparando con la mia pistola! Spara, umani! Prego! No, 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 signor ragno! Signor ragno, mi sta distruggendo l'aereo! Stia buono! No, 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 no! Oh mio Dio, oh mio Dio, ma quanto è grosso! Camillo, levati! Mamma mia, Camillo, stai buono qua! Allora, signor ragno, oh mio Dio, forse cade giù da solo! Cadi, cadi! Gli lancio le persone addosso! Cadi, imbecille! No, 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 aspetta! Camillo, ti devi togliere! Oh no! No! Il ragno! No, no, no! Non anche io, però! Oh mio Dio! Forse lo sono riuscito a sconfiggere, ma dove? Aia, che dolore! Mi sono spaccato le gambe! Ragazzi, credo che il ragno sia caduto giù, ma non riesco a capire dove! L'aereo sta precipitando! Il ragno è morto! Missione completa! Oh! Oh! Mamma mia, questo gioco è tutto buggato! Ma perché? Ma la smettiamo! Ma poi dov'è il mio cane? Camillo! Tutto bene? È tutto rotto! Signora, visto come siamo stati bravi, che cosa è successo? Stiamo precipitando... Ma c'è un altro ragno! Signora, mi dia un secondo! Non è ancora finita, ma dai! Ma guarda che schifo! Ma la vuoi smettere? Ti prendo... Martellate mi ha ucciso! Il ragno gigante mi ha sputato del fuoco addosso! Camillo, devi stare attento! Vieni qua! Vieni qua! Spostati! Spostati! Mamma mia, sei un cane veramente imbecille, lo sai? Cioè, ok che sei mortale, ma mi sembra un tantino esagerato! Ah! Mamma mia, che ansia! Però vai, Camillo! Attacca! Attacca! Sei tu quello più forte dei due, vai! Uccidilo! E non mi seguire, ho capito che voi croccantini, e va bene! E va bene, me la vedo io! Allora, coso? Stai fermo! Ti sbatto per tutto l'aereo! Sì, sì, ti distruggo! E adesso? E adesso cosa fai? Ho il pieno controllo del tuo corpo! Dai! Vieni! Fatti sotto! Maledetto ragno infame! Mori! Oddio! Oddio! Eh... Signor rag... Mi scusi? Ma l'ho smitragliato nel cervello e volato fuori dall'aereo! Ma è perfetto! Ma sono fortissimo! Signora! Oddio, dov'è la signora? Tutto a posto, ha visto? Siamo bravissimi! Ok che per lei il nostro nome fa schifo! Ma abbiamo ucciso tutti i ragni sull'aereo! Non è contenta? Eh? Non è contenta? Io sono pazzo! Dovete morire tutti! Tutti quanti! Camillo ma tu esattamente come ci sei finito lì sopra? Guarda che io adesso ti licenzio! Ma la devi smettere! Fai più danni tu che il ragno gigante! Ma ti rendi conto? Eh... Camillo... Camillo tutto bene? Stai comodo? Va bene, quello è l'importante! Signora mi può tenere un attimo d'occhio il cane? Ha degli evidenti problemi! La ringrazio! Mi scusi, Hitman dei poveri? È stato lei a chiamarmi per il problema del ragno gigante? Ne ho appena ammazzati due! È impossibile che ce ne sia un terzo! Ma stiamo scherzando? Eh... Credo che Camillo si sia fatto la pipì addosso! Sei sicuro di stare bene? Che poi l'aereo mi sembra in perfette condizioni! Dopo l'attacco dei due ragni l'hanno ricostruito completamente! Camillo! Camillo noi siamo dei professionisti! Non ti puoi mettere a fare la pipì nell'aereo come ti pare e piace! Ma non ti ho insegnato proprio niente! Ma fai schifo! Stavo dicendo hanno ricostruito l'aereo! Avete visto quanto sono stato bravo ad uccidere quei due ragni giganti? Non voi due inutili imbecilli! Anzi tre! Perché ci sei anche tu! E vi sta bene perché non mi avete dato neanche una mano! E adesso... Me ne va... No! 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 Allontanati! Oh mio Dio! Oh mio Dio! C'era davvero il terzo ragno! Oh mio Dio! Ho esploso Camillo! Tutto a posto! Non ti avvicinare che schifo! No 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 no! Io devo volare! Sì! Sì! Maledetto ragno! Sono tornato! Ti spacco! Ti botte! Datemi un'arma! Veloce! Veloce! Un'arma! Sì! Sì! Oh mio Dio! Gli ho distrutto il corpo! L'ho ucciso? Ho sconfitto il ragno! Ho trovato il suo punto debole! Fai schifo! Ti ho ucciso dai! Sputami adesso il fuoco imbecille! Ha visto quanto sono stato bravo? Ho risolto il problema! Oh! Che schifo! Che schifo! Cos'è quella roba? È un pungiglione gigante! No 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 no! Camillo! Camillo a riparo! Camillo a riparo! Da qualche parte riparati mamma mia! Se devo fare tutto io! Stai qua! Stai buono! Era un'ape gigante quella? Ma da dove spawnano sti schifi umani? Guardate quanto è brutta! È gigante! Io odio le api! Sono la cosa che mi fa più schifo nel mondo! Aiuto! No! No! Stia a riparo signore! Ci penso io! Muori! Muori! No! No! Teardown! Teardown ti prego non fare così! Io non ho parole! Three days later! Ragazzi io e Camillo siamo appena arrivati! Ovviamente Camillo sempre con i suoi soliti problemi! E siamo in questa casa californiana dove c'è stato detto come si apre il cancello che c'è l'origine di tutti quei ragni! Oh mio Dio! Oh mio Dio non dirmi che questo è il nido! Ehi là! Posso spaccarlo? Baba Boy! Oh mio Dio! Oh 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 che cosa ho fatto? Oh mio Dio no! No 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 quella è una torretta! Quella è una torretta! Che schifo! Che schifo! Mi nascondo tra le fratte! Oh mio Dio ragazzi ma si sta espandendo sempre di più! Credo che questo sia tipo il seme che dà vita a tutti quei ragni! Oddio! Oddio! Oh no 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 no! Zitto! 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 Si espande sempre di più! Diventa sempre più grosso! Avete visto che è apparso quel legno gigante con attaccate le torrette? Magè Super Mario? Camillo mi raccomando resta nascosto perché qui va a finire malissimo! Fidati di me! No ragazzi! No ragazzi! La situazione sta sfuggendo di mano! Devo sparare! Sì, sì Oh mio Dio, oh mio Dio No, 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 scappa, 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 scappa Veloce, veloce Devo trovare un posto più sicuro Ok, ok, zitto, zitto, zitto dietro al muretto Piano, piano, qui non mi vedono Qui non mi vedono, hanno smesso di sparare Eh, in realtà no, stanno ancora sparando Oh mio Dio Si sta espandendo sempre di più Ma che schifo Devo progettare una specie di bomba atomica Che possa distruggere tutto il seme Camillo, sei pronto? Al lavoro Prima di tutto mi servirà Della polvere Da, da, da sparo Che cosa sta succedendo Oh, oh, no, 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 no Prendi le armi Prendi le armi Qui qualcosa mi puzza E non sono io Cos'è? Che sta succedendo? E là? Oh, no, 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 no No, sta iniziando a spawnare i ragni Che schifo Ok, ok, mi proteggerò sotto al seme Maledetto ragno Muori Muori Oh, no, 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 no Carica l'arma Carica l'arma Veloce Veloce Carica l'arma Mamma mia Oh, che schifo No, no, no Le api no Le api no Ok, ok Forse devo entrare in casa Sarò più al sicuro Qui dentro Ok, qui non potranno entrare Perché la casa è gigantesca Questa No, pensavo fosse una bomba atomica Peccato Questa dovrebbe funzionare Eh, 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 sì Dovresti fare esplodere il seme Non il mio computer Guarda Guarda, sta esplodendo Ok, forse l'ho distrutto Ok che ho distrutto anche tutta la casa Ma forse ci sono riuscito Guarda, sta radendo tutto al suolo E il seme sta cadendo Ok che ho dovuto usare una bomba atomica Ma ha mali estremi Estremi rimedi Beh, devo dire che ha funzionato alla perfezione Missione compiuta E ora Camillo Possiamo finalmente goderci Una bella vacanza al ma Re non sei con Io non ci posso credere Al prossimo video